amici buongiorno mi sto apprestando a svelgere un porcino una brisa mora che dati tempi la trovo piuttosto interessante perché lo s'intravede il fungo tra le piccole piante le piantine di faggio che sono cresciuti con tutta la fagiola che è caduta intorno ora andrò e intanto lo vedete andrò vicino e cercherò con molta accortezza di valutarlo e di farvelo vedere un pochettino meglio sto abbassando le foglie intorno ed eccolo qua e ora si provvede a fare l'opera di ruvelgimento è una grossa emozione perché non trovate già qualcuno ma non di questa misura vuol dire che stanno crescendo intorno ecco qua ha la caratteristica a questo tipo di fungo di essere decisamente bello guardate qua è il vero primo fungo della stagione chiudo questo video e mi appronto ad andarmi a cercare altri